Miss Blumar Emilia Romagna, il concorso organizzato dell'Agenzia Milano Models 2 ha fatto tappa al Matterello di Rubiera, a metà strada tra Modena e Regione Emilia. Una serata simpatica, ma soprattutto una serata all'insegna della bellezza. Vediamo. I am, I am, I am, I am, I am a giant. I am, I am, I am a giant. Don't hide your emotion You can throw down your claws And feed from the notion We can be who we are You taught me something Freedom is out It was you that taught me37 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501